Io ho sentito alcuni, ho smesso la preghiera perché non sentivo più niente, e quindi non sentirai mai niente se non prego. È normale che ci siano dei giorni in cui preghiamo meglio e dei giorni che preghiamo peggio, ma anche se uno si disciplina nell'allenamento, ragazzi, è ovvio che ci sono giorni che c'hai voglia e sei gasato, ma ci sono giorni in cui vai lì e veramente ti cambi contro voglia, fai gli allenamenti contro voglia, ma fa parte della disciplina fare anche quelle sessioni di allenamento. Per cui noi dobbiamo uscire da questa cosa che è poi anche questa mentalità schifosa di fare le cose che ci si sente di fare, che fanno solo le cose che si sentono, che si sentono a loro agio di fare. Noi dobbiamo fare le cose che devono essere fatte. Noi abbiamo degli scopi che ci ispirano, però dobbiamo ingoiare rospi e ciucciare bulloni nei percorsi. Per cui se vogliamo raggiungere degli alti livelli di spiritualità, dobbiamo fare quello che deve essere fatto con disciplinatezza e non solo quando ce la sentiamo e quando ci sentiamo. Io veramente ho visto parlato con persone che si sentivano anche più, meno ipocrite di tanti che pregano senza sentire niente. Loro si autogiustificavano e pensavano di essere migliori e più coerenti di quelle persone che invece a loro vista sono incoerenti perché pregano senza sentire niente. No, quelle persone obbediscono ad Allah e tu sei disobbediente. Quelle persone sono disciplinate, seguono il processo e a un certo punto gli arriverà l'ispirazione e se proveranno il benessere della preghiera, mentre tu no. Perché poi ci sono dei benefici della preghiera che derivano anche da quella sensazione di benessere, ma ci sono dei benefici che non derivano, che non sono collegati all'emozione. Come l'allenare la disciplina, come l'obbedire ad Allah subhanahu alaihi wa sallam, come anche dei benefici collaterali, come quello delle posizioni che abbiamo nella preghiera. Magari anche durante la preghiera fai una tesbiaha bene, una eia la dici bene. Noi comunque durante la preghiera facciamo un percorso mentale e diamo alla nostra mente l'ordine di percorrere certe connessioni neurali e quindi andiamo a rafforzare, anche se non sentiamo in pancia quella sensazione di benessere. Comunque noi ripetendo certe cose, stiamo facendo percorrere la nostra mente dei percorsi nel nostro cervello che vanno rinforzati e che quindi ci danno un atteggiamento mentale migliore, vanno a prevenire certe debolezze mentali o vanno a prevenire la mancanza di salute mentale, vanno a coltivare la nostra salute psicologica e così via. Per cui noi le cose le facciamo e basta. Poi a volte ci sentiamo bene nel farle, a volte non ci sentiamo bene nel farle. L'argomento di oggi è come godersi la preghiera, ok? E cominciamo con un po' di riflessione, un po' per scaldare i motori, per poi partire insieme con la condivisione di esperienze. La preghiera. La preghiera è l'adorazione praticamente più importante tra le adorazioni rituali. Tutte le adorazioni sono... Cioè per noi musulmani il wahì è una cosa importantissima, ovvero la rivelazione che Allah rivela tramite l'arcangelo Gabriele al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è importantissima. La nostra religione è costruita su ciò che è stato, diciamo, rivelato attraverso l'arcangelo Gabriele e attraverso il wahì. Però la preghiera ha scavalcato l'intermediario dell'arcangelo Gabriele alaihi wa sallam, Jibril alaihi wa sallam, e tra virgolette non è stato usato come intermediario per questa adorazione. Infatti l'adorazione della Salat è un'adorazione che è stata rivelata direttamente in cielo da Allah direttamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam senza nessun intermediario durante l'isra o al-mi'araj. Una delle cose che ci fa capire l'importanza e il valore della preghiera nell'islam è proprio il fatto che è stata l'unica cosa che è stata rivelata, l'unica adorazione che è stata rivelata direttamente nel cielo. Quando il profeta sallallahu alaihi wa sallam era nel cielo durante l'isra o al-mi'araj. Ok? Quindi questa è la prima riflessione e come dice il profeta sallallahu alaihi wa sallam, al-salat sa'amududdin, nel senso che la preghiera è il pilastro fondamentale su cui si costruisce la nostra religione. Cioè voi immaginate una tenda, se togliete quel pilastro lì, cade quella tenda lì. Ok? Il pilastro centrale. Quindi l'amud è inteso in questo senso. Quindi questo proprio per cominciare a scaldare i motori e a dare la giusta importanza all'argomento che stiamo per affrontare. Perché appunto non stiamo parlando di un'adorazione laterale che si può fare o si può non fare, che si può fare durante Ramadan, poi lasciarla dopo Ramadan e così via. Stiamo parlando di un'adorazione che è amududdin, che è il pilastro centrale della preghiera che è il pilastro più importante dopo la shahada. Cioè alla fine dopo la testimonianza di fede, alla fine noi testimoniamo la nostra fede, una volta che testimoniamo la nostra fede poi la esprimiamo attraverso la preghiera e molti, diciamo molti sapienti, c'è divergenza sull'argomento chiaramente, però ci sono alcuni sapienti che ritengono che coloro che non pregano non sono musulmani e addirittura non sono da seppellire con la tomba, cioè nel cimitero dei musulmani. Coloro che non pregano sono da non seppellire nel cimitero dei musulmani secondo alcuni sapienti, non secondo tutti. Personalmente non sono di questa opinione, io sono dell'opinione che se uno testimonia che non c'è Dio all'inforo di Allah, che è Muhammad, il suo messaggero, io seguo la corrente di pensiero sapienziale che dice che coloro che fanno la scella sono musulmani, anche se la loro fede è fortemente danneggiata dal fatto che non pregano, però comunque il fatto che solo ci sia un dibattito del genere su se il fatto che colui che non prega è da seppellire o da non seppellire nel cimitero dei musulmani fa capire di che livello di importanza stiamo parlando, ok? Quindi qua vanno a cadere tutti quegli ragionamenti della fede nel cuore, la fede, l'importante è comportarsi bene, sì, è importante comportarsi bene, ma vi assicuro che si accorge dell'importanza della preghiera solo chi fa un lungo percorso con la preghiera, ok? La teschia che è la preghiera, la purificazione che fa la preghiera non la conosce chi non fa la preghiera, ok? Per cui è ovvio che chi non fa la preghiera faccia discorsi dell'importante è quello che hai nel cuore. Bravo, grazie al cavolo, non hai mai visto cosa c'è dall'altra parte o non ti sei impegnato abbastanza da vedere cosa c'è dall'altra parte, è ovvio che parli senza sapere, ok? Beh, invece chi ha un percorso per la preghiera in cui si è impegnato, anche con degli alti e bassi, anche con dei momenti in cui riesce a concentrarsi di più e con dei momenti in cui invece è un po' più meccanico, però comunque la disciplina e la costanza e il continuare a provarci, quando rimane, poi i risultati sono imparagonabili imparagonabili tra chi prega e chi non prega. Cos'altro? La preghiera, tra l'altro, per il credente ha anche un ruolo di rifugio. Quando abbiamo un dubbio andiamo alla preghiera, salat al-stikhara, quando c'è la siccità addirittura andiamo alla preghiera, salat al-stikhara, quando ci muore un caro andiamo alla preghiera, salat al-moyiz, quando abbiamo qualsiasi dubbio, quando iniziamo il nostro matrimonio, che lo cominciamo con una preghiera e così via. Per cui la preghiera in realtà nella vita del musulmano è il momento in cui, diciamo, si rifugia o va a chiedere consiglio, o va a riflettere. Il profeta, salallahu alayhi wa sallam, si narra che il profeta, salallahu alayhi wa sallam, quando lo scuoteva a qualche evento della sua vita, si rifugiava nella preghiera. Si rifugiava profondamente nella preghiera. Quando aveva dei dubbi si rifugiava nella preghiera. E così via. E Allah, subhanu wa sallam, ci dice questo nel Qur'an. Ci dice ovvero l'uomo è stato creato instabile, nel senso che è emotivamente instabile, si spaventa facilmente. Ok? Prostrato quando lo coglie la sventura, è arrogante nel benessere. Ok? Quindi c'è questa instabilità. Prostrato perché spaventato quando lo coglie la sventura, però poi arrogante quando è nel benessere. Eccetto coloro che eseguono la salat, il musallin. E sono costanti nella loro salat, nella loro orazione. Ok? Quindi la salat ci dà anche, secondo questo versetto qui, ci dà anche una certa stabilità emotiva, anche un certo salem dachili, si dice, una certa pace interiore. E questa pace interiore in realtà è stata ricercata anche tra coloro che non sono musulmani, che però hanno raggiunto un certo livello di consapevolezza, hanno capito che è necessario una qualche tipo di pratica per calmarsi, per accoglietarsi. Quindi gli hinduisti hanno inventato la yoga, i buddhisti hanno inventato le loro meditazioni, per raggiungere il nirvana, che alla fine il nirvana è uno stato spirituale in cui non provi più dolore, e così via. E c'è divergenza sui sapienti se all'origine di questi messaggi ci fosse un qualche messaggero di Allah subhanahu wa ta'ala. Per esempio, molti dicono che probabilmente, forse, Buddha, probabilmente era un profeta, il cui messaggio però poi è stato travisato e corrotto. Sono speculazioni intellettuali queste, però sta di fatto che in ogni civiltà c'è questa esigenza di trovare un'attività, di creare dei momenti in cui si acquieta lo spirito, in cui si nutre lo spirito e lo si acquieta. Adesso addirittura anche nel nostro super materialista occidente stanno un po' pescando da ovunque, e la yoga, e le meditazioni, e dall'altra parte stanno cercando di, hanno inventato questa cosa qui dell'energia, e sono tutti dei palliativi chiaramente, perché in qualche modo ci si è accorti che c'è una parte della nostra esistenza che non stiamo nutriendo, che è la parte spirituale. Per cui nel momento in cui si sono accorti di questa cosa qui hanno cominciato a cercare dei palliativi, ma che appunto sono dei palliativi. Mentre la preghiera, la salat, è ciò che ha progettato il creatore per le sue creature. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala ci ha creati, ci ha progettati, sa come siamo fatti, sa di cosa abbiamo bisogno, e ha progettato per noi la salat, che è la meditazione. Diciamo, la meditazione, che è quella pratica spirituale che permette di soddisfare quella fame del nostro spirito. Ok? Tra l'altro il nostro spirito è il ruoh, e il nostro ruoh è il nafha min Allah, è un soffio divino. Per cui Allah subhanahu wa ta'ala lo nutre effettivamente in maniera piena, in maniera completa nel momento in cui lo adoriamo connessi con Allah subhanahu wa ta'ala. Se uno fa solo la yoga e la pratica della gratitudine fine a se stessa, senza quella connessione con Allah subhanahu wa ta'ala, se uno fa in questa maniera sta facendo dei palliativi che però possono sicuramente essere meglio del non fare niente. Nel senso che io ho conosciuto tante persone che fanno meditazione, che fanno yoga, è sicuramente una persona che si dedica anche non musulmana, che si dedica in qualche modo a coltivare una parte del suo spirito è meglio di chi non lo fa completamente. No? Però è chiaro che non è paragonabile con l'effetto potenziale di una preghiera, di una salat fatta bene. Ok? Il profeta salallahu alaihi wa sallam una delle ultime riflessioni per poi passare al nostro workshop si diceva diceva che la salat è la sua corretta haine, no? Ciò che gli dà più gioia, gli dà più benessere. Ok? Ecco, in questo workshop noi stiamo andando a ricercare insieme questi dei suggerimenti o dei paradigmi o delle uno scambio di esperienze che ci permetta di raggiungere nuovi livelli diciamo di benessere, di significato, di connessione con Allah subhanahu wa ta'ala che che ci permetta di elevarci spiritualmente. Ok? Quindi ognuno di noi ha a suo modo pregato, ognuno di noi ha pregato in base al suo carattere anche, ha scoperto degli ambiti e dei significati all'interno della preghiera diversi, in base a ognuno al suo background, alle sfide che ha avuto nella sua vita, al modo con cui ha conosciuto la religione, al suo background religioso, eccetera, eccetera. Quindi ognuno nel suo cervello ha una sua esperienza con la preghiera e l'idea sarebbe quella di condividere insieme, guarda, la cosa che mi ha aiutato di più nella preghiera è stato questo rispetto a quest'altro. Ok? Uno potrebbe dire, guarda, una cosa che nel mio percorso mi ha aiutato con la preghiera è XY, l'altro dice invece quando prima della preghiera penso a questo, diciamo, vivo la preghiera meglio. Poi io mi sono preparato dei punti per animare un po' anche il discorso, però mi piacerebbe che lo facessimo insieme. Quindi chi vuole condividere una prima riflessione, un primo diciamo suggerimento da dare a una persona che dice vorrei migliorare la mia preghiera, vorrei migliorare il mio benessere durante la preghiera, vorrei migliorare la mia concentrazione. Che suggerimenti dareste da questo punto di vista in base alla vostra esperienza? Cos'è che nella vostra esperienza ha impattato sulla vostra capacità di concentrazione e di godervi la preghiera? Potete o alzare la mano che vi do la parola con il bottoncino legato oppure per i più timidi potete scrivere nella chat però io preferisco che parliate condivido lo schermo così vediamo questa cosa che ci ha condiviso Margherita benefici spirituali e medici da preghiera islamica Sabrina lei centro per la ricerca e il dialogo ok Dio ama coloro che si svolgono presso spesso verso di si mantengono puri e puliti ok beh sicuramente penso che il messaggio sia sia questo ovvero che sicuramente affrontando la preghiera con un po' più di consapevolezza ok sicuramente c'è maggiore come si può dire c'è maggiore coinvolgimento ok quindi la preghiera islamica la preghiera come dialogo diretto con Dio l'uomo il suo ambiente nella prospettiva coranica il significato dell'espressione Qiyam la preghiera è una tradizione ebraica e cristiana la salata è la fettra i tempi della salata poi capitolo 2 la salata come cura bello le abluzioni importanza e significato dell'abluzione della preghiera islamica i benefici fisici delle abluzioni bello bello molto bello i benefici medici della preghiera islamica e così via ecco la sorella Margherita ci ha condiviso questo bel io non l'ho mai letto quindi se dentro dice che bisogna pregare in direzione dell'Alaska io mi dissocio però diciamo che di base sembra una sembra una risorsa fatta bene cioè così dall'indice per cui adesso ve l'ha mandata in in come si chiama ve l'ha mandata in nella chat scaricatevela prendetevi un momento per leggervela e se qualcuno sta guardando questo diciamo questa lezione in un altro canale basta che ci scrivete a info strongbelieveracademy.com e ve la mandiamo inshallah vai sabrin salam alaikum salam come stai? parlo un po' piano la piccola dorme ok ok vai cioè vabbè brevemente e permettendo che ho ancora moltissimo per non dire tutto da da elaborare nella mia preghiera soprattutto perché ho spesso magari difficoltà di concentrazione o mi distraggo però bifat di lei non significa che magari non ci provo a migliorare ad avere una preghiera più con più chushua cioè con più presenza e così via e due cose che almeno mi hanno un po' indirizzato la via no? è come dire ok so che esercizi devo fare così che posso arrivare a fare quel movimento quell'esercizio di sport no? un po' su queste linee di pensiero però legate alla preghiera era una diciamo una khotba che fece uno sheikh che ho salvato nei miei perfidi di youtube ma adesso non ricordo in cui descriveva la preghiera ricordando che Allah Sumanu Ta'ala ci dice che noi cioè che lui è per noi come noi pensiamo che lui sia no? che normalmente questo significa solo magari ok avere ottimismo di Allah pensare positivamente di Allah ma significa anche che se tu sei nella preghiera e immagini e pensi che Allah Sumanu Ta'ala sta interagendo con te in un certo modo quella cosa ti aiuta ok? quindi una cosa è pregare pensando che tu sei nella tua stanza ok faccio la preghiera ho fatto l'odora ho finito un'altra è pensare che tu stai facendo una sorta di ascensione come hanno detto anche alcuni e spiritualmente sei davanti al trono di Allah con Allah sono una tale che interagisce gli angeli attorno eccetera e questo magari si connette anche a tanti esercizi di trigger visualizzazione eccetera meditazione di tante culture però aiuta perché sappiamo che è vero nel senso che nell'islam noi sappiamo davvero che la sua tale interagisce con noi quindi questo è più a livello a chi piace magari la cosa della meditazione la riflessione quale cosa è migliore che sapere di essere veramente davanti al creatore dei mondi che proprio è davanti a te faccia faccia questa è una cosa che mi aiuta quando riesco a farla un'altra cosa è che una difficoltà magari per chi prega magari da anni è che memorizzando parti del corano anche se poche quelle parole escono in automatico e quindi significa che abbiamo più memoria muscolare che intenzionalità quando le pronunciamo e una cosa che ho notato che mi aiuta quando riesco a farla queste sono belle soluzioni poi della teoria della pratica cioè le pratiche appunto è quella di mettere carico emotivo in quello che si dice ad esempio la fetica la diciamo tutti magari in ogni preghiera e una cosa è dire una cosa è che ogni volta che si dica un verso per esempio si immagini e si pensa veramente a qualcosa che per cui alla smutata merita la lode per noi quando noi diciamo stessa cosa immaginiamo che ne so io a volte immagino il cervo madre che si prende cura del piccolo bambi per così dire e così via e questo è proprio aumentare l'emozione che è legata a quel verso o a quei versetti e questa cosa mi aiuta quando riesco a farla veramente a trasformare la mia preghiera perché l'emozione all'aspatale quando noi facciamo finisco con questo quando la parla del sacrificio del adha quando noi sacrifichiamo gli animali per esempio durante le haiti ci dice non raggiunge Allah la carne o il sangue dell'animale ma la tappa e quando Allah ha detto Ibrahim di sacrificare suo figlio era la tappa che era lì non tanto il sacrificio quindi quando noi riusciamo a sviluppare e avere intenzionalità e avere quelle emozioni lì trasforma la preghiera e inshallah ci porta anche più vicino della sua natale queste sono le mie due chicche su cui sinceramente ancora devo fare tanta pratica però come soluzioni mi aiutano mi danno direzione veramente forte tra l'altro la questione dell'immaginare Allah davanti a noi l'ha alimentata il profeta è anche il motivo per cui le persone non si devono passare davanti non bisogna passare davanti a una persona che prega proprio perché è in relazione con Allah subhanahu wa ta'ala in quel momento e Allah subhanahu wa ta'ala in realtà mentre preghiamo in realtà stiamo interloquendo con lui anche per esempio in surat al-fatiha ad ogni versetto che noi diciamo Allah subhanahu wa ta'ala ci risponde ok adesso io non ricordo esattamente le risposte però è una ricerca che si può fare facilmente cioè quando uno dice quindi il mio servo mi ha ringraziato il mio servo mi ha glorificato e così via quindi c'è una vera e propria conversazione se noi ci in qualche modo prendiamo conto di questa cosa qui e visualizziamo questa cosa qui poi si realizza anche quello che diceva Sabri se poi uno immagina anche addirittura il trono di Allah subhanahu wa ta'ala e così via in tutta la sua maestà sicuramente raggiunge dei livelli di spiritualità maggiori tra l'altro ragazzi anche da un punto di vista un po' materiale queste visualizzazioni questa immaginazione è stato dimostrato che con queste visualizzazioni rendono più intelligenti perché vanno a allenare delle parti del nostro cervello che sviluppano in noi la nostra capacità di visualizzare di pianificare di e anche di essere dei leader migliori dei leader migliori dei comunicatori migliori perché più impariamo a visualizzare più abbiamo dei benefici a cascata sulla nostra capacità di crearci una visione sulla nostra capacità di coinvolgere delle persone attorno a questa visione perché abbiamo una visione nitida grazie alla nostra immaginazione allenata anche grazie alla preghiera e così via quindi ci sono anche tanti di questi effetti collaterali di questi benefici collaterali che sono straordinariamente utili anche nella nostra vita quotidiana adesso Margherita fra pochissimo ti do la parola intanto leggiamo un paio di interventi a me quello che mi aiuta è pensare che quella la preghiera che sto facendo in quell'esatto momento potrebbe essere l'ultima questo è anche molto spesso gli imam dicono salu salatamu adda pregate come se fosse una preghiera di uno che sta dicendo addio a questa vita quindi l'ultima preghiera della 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 vita della persona quindi se uno è lì lì che dice adesso sto per andare dalla spana sala compie la preghiera con un livello di concentrazione di coinvolgimento molto maggiore e anche dice Carlotta immaginare di essere di fronte alla mecca anche questo sicuramente aiuta e riprendiamo anche il discorso sulla visualizzazione Fatima dice non essendo arabofona il fatto di imparare la traduzione e il significato di ciò che dico nei vari movimenti o nelle sura mi aiuta a rimanere concentrata in quello che dico e ad essere più legata alla preghiera stessa sicuramente sicuramente perché sapere cosa si sta dicendo più si conosce quello che stiamo dicendo sia a livello di significato proprio di parole ma anche a livello di significati oltre quindi andare ad approfondire i tefsire a vedere riflessioni su quelle sura che usiamo più spesso sulle adcar che facciamo più spesso e così via ci permette di vivere in maniera sempre più rinnovata quelle parole che magari come diceva Sabri abbiamo creato una sorta di memoria muscolare che ce li fa dire quasi in automatico quindi bisogna metterci un attimino di attenzione dietro un altro suggerimento che avevo letto sul gruppo facebook strong believer dice Fatima era quello di prendermi un po' di tempo prima di iniziare la preghiera per immaginarmi sopra Serat visualizzare dentro di me l'angelo della morte a destra il paradiso e a sinistra l'inferno questo tra l'altro era fatto da uno dei grandi sali hain della storia islamica e appunto diceva che la sua concentrazione derivava dal fatto che appunto immaginava cioè mentre pregava visualizzava Serat visualizzava il paradiso visualizzava l'inferno e visualizzava l'angelo della morte pronto a prendere la sua anima e questo ragazzi non è come abbiamo visto anche nel workshop sulla morte la morte può essere vissuta come un qualcosa di emotivamente negativo ma può anche essere vissuta in maniera super potenziante in base a come la si vede ok vi rimando al 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 seminario cosa ti aspetta nel futuro questo seminario qui ragazzi parla della morte secondo me per chi non l'ha visto come non avete mai sentito parlare allora noi abbiamo messo questo titolo cosa ti aspetta nel futuro per non mettere come vivere la morte no però in realtà perché molta gente scappa a priori dal tema dall'argomento morte però in realtà l'abbiamo affrontato in una maniera fa capire appunto quanti benefici ci dà nella vita in maniera proprio motivante ok per cui vi consiglio di andarvela a vedere andate su strong believer scrivete seminario nel futuro strong believer academy oppure scrivete scrivete le idee dello strong believer e andate a scegliervi la puntata come sempre io vi consiglio sempre di andarvi a guardare le idee dello strong believer perché è una playlist straordinaria che sta cambiando letteralmente la vita a un sacco di persone ok quindi abbiamo questo intervento di Fatima Khadija dice la mia invece è una domanda io riesco a concentrarmi meglio chiudendo gli occhi perché è come se mi isolassi dal mondo però alcuni sapenti sostengono che sia un modo sbagliato di pregare in quanto ricorda la preghiera cristiana io non mi occupo di Fatua non mi occupo di da quello che so c'è una divergenza sull'argomento da quello che so però è una roba che non verifico da un po' di tempo quindi verificate qualora ci fosse divergenza segui il parere che diciamo in qualche modo ti fa concentrare meglio anch'io avevo il problema del non riuscire a isolarmi se non chiudevo gli occhi però con un po' di impegno anche focalizzando un determinato punto del del sujud si riesce a concentrarsi meglio come il professor so se non ci ha insegnato io da sto punto darei la parola a Margherita poi leggiamo altri interventi poi di nuovo la parola a Ime vai Margherita ciao abete si sentite sì no intanto volevo fare una piccola riflessione sul file che ho condiviso a me ha aiutato nel senso che c'è tutta una parte sui benefici medici nel senso che c'è un studio che spiega quali muscoli vengono diciamo usati durante la preghiera quali sono i benefici che sono stati studiati se uno muove questi muscoli in quel modo con il ritmo che la preghiera ci dà però dall'altra parte sono consapevole che è una cosa da prendere con le pinze perché non è come hai detto tu lo yoga non si fa perché ci fa bene i muscoli si fa perché è un ordine di Allah però secondo me è con la giusta diciamo intenzione quindi magari personalmente penso che è una rahma in più un beneficio in più che mi dà Allah di cui posso essere consapevole magari è una spinta in più anche per continuare diciamo a fare la preghiera quindi ecco questa è una parentesi giusto per non dire sì lo faccio perché divento più elastica in realtà allora hai super ragione ma i benefici sono tantissimi il fatto che noi lo facciamo per Allah primariamente non toglie il fatto che possiamo esplorare i benefici che ne derivano perché comunque fungono da incentivo soprattutto per coloro che magari sono ancora agli inizi e non capiscono perché Allah ci ha obbligato per il nostro bene a fare questo però se uno capisce che ci sono benefici per l'immaginazione ci sono benefici psicologici ci sono benefici mentali ci sono benefici per la circolazione ci sono benefici muscolari e così via uno comincia ad intuire a dire ok ecco perché Allah è super severo nel dirci qualcosa qui è obbligatorio e dovete farla esattamente così perché lui ci ha creato lui ci ha progettato lui sa come funzioniamo e come non funzioniamo e quindi ci ha dato gli ingredienti per poter vivere la vita diciamo come Allah ha voluto per noi coerentemente con la missione che ci ha dato per cui sì io tra l'altro ho visto anche un documentario in arabo che parlava anche dal punto di vista celebrale avevamo visto quali sono c'era questa persona che aveva fatto una preghiera aveva fatto una risonanza senza aver fatto la preghiera e poi ha fatto una preghiera un po' col khushur e ha fatto una risonanza dopo la preghiera e ha visto che l'attivazione delle parti del cervello si sono attivate delle parti che è importantissimo che si attivano per il benessere psicologico e mentale della persona per prevenire delle aree della mente che vanno a prevenire un sacco di malattie mentali un sacco di malesseri psicologici vanno a sviluppare delle aree della nostra mente anche queste utilissime nella nostra vita vanno a scaricare una serie di questioni che ci stressano e ci logorano e così via quindi immaginate noi abbiamo questi cinque appuntamenti in cui Allah ci ha obbligato per il nostro bene come il genitore che obbliga il figlio a mangiare la verdura per non star male ci ha obbligato per il nostro bene a farle proprio per ma lui non gliene vede niente perché ci sono tantissimi benefici per cui io penso che esplorare tutti questi benefici non tolga niente al fatto che comunque noi primariamente lo facciamo per fede e per Allah subhanahu wa ta'ala Emel adesso leggiamo qualche commento poi di nuovo dalla parola Ayman che ha alzato la mano Emel dice a volte io immagino appunto di essere davanti ad Allah ma questo significa immaginare a un certo senso Allah ma non è possibile immaginarli o quindi la mia mente mentre prego inizia a porsi i dubbi su quanto sia ok immaginare Allah il suo trono eccetera eccetera mi hai fatto quasi venire il dubbio anche a me allora cioè non è che ti immagini Allah io personalmente adesso che me lo dici non so neanche cos'è che immagino io immagino qualcosa di luminoso e di maestoso però nel dettaglio nello specifico non è che ha una faccia e dei dettagli ok io semplicemente immagino qualcosa di ecco di luce di luminoso e senza i dettagli Allah per cui non è che ti immagini Allah però diciamo percepisci più che immagini che sei davanti Allah il creatore dei mondi Iman Abdurrazzak dice avrei una curiosità off topic ho sempre saputo che l'udu venisse annullato se ci si tocca tra un uomo e una donna che non sia un maharam alcuni miei amici sostengono che non sia vero e che dipende dalle intenzioni il che potrebbe essere vero ma chi conosce davvero le intenzioni dell'altro sapre se darmi una giusta risposta Iman guarda dovrei fare una ricerca dovrei fare una ricerca non è in generale non è il mio ambito di competenza comunque sempre cercate di vedere cosa dicono i sapienti cercate di vedere cosa dicono i sapienti molto spesso ragazzi ci sono delle divergenze tra i sapienti ed è normalissimo che ci siano queste divergenze ed è un bene che ci siano queste divergenze ogni ogni posizione ha delle argomentazioni andate a vedere le argomentazioni quella che un po' in qualche modo vi mette a po' cioè vi fa sentire meglio con la vostra coscienza e con il vostro ragionamento seguitelo ok io personalmente adesso mi hai fatto venire il dubbio per cui vado a ricercare io personalmente sono della filosofia del che diciamo in base che la questione del dare la mano o meno è una questione di orf ok ci sono scuole di pensiero che dicono che è una questione di orf scuole giuridiche scusate che dicono che è una questione di orf per cui in Arabia Saudita dare la mano è un qualcosa di maquarram in Marocco o in Italia in cui l'orfo comunque la consuetudine di dare la mano non ha accezioni sensuali e cose così è una cosa che si può fare e detto questo poi dal punto di vista del Udu non non l'ho mai considerata effettivamente un un monkhead del Udu diciamo un annullatore del Udu però personalmente adesso che mi hai fatto venire il dubbio vi invito ad approfondire io approfondisco e poi se qualcuno vuole sapere di più basta che ci scriva e possiamo mandarvi qualche fonte io mi immagino di essere davanti al Dallà il giorno del giudizio Meimuna dice ok ottimo Yasin dice quello che mi aiuta è cercare di usare il zikr del hamd mi fa legare di più ad Allah anche quando i momenti sono duri ti fa ti forza comprendere più cose tutto è nelle mani di Allah ti dà più pace perché sei nelle mani migliori mi fa emergere nella vita del profeta Ayyub in cui è stato ad ogni stato in ogni stato lo dava Allah e subhanallah il dikr aiuta un sacco si può aggiungere i nomi di Allah al dikr assolutamente sì assolutamente sì Barakallahu fikum Imen dice grazie prego Imen Bushmil parti ciao Maliko intanto mi scuso se sentite un po' di rumore ma sono ancora in laboratorio però non volevo perdermi questa lezione allora intanto allora io volevo dire una cosa volevo raccontare un po' di aneddoti riguardo appunto la Salet vabbè intanto sto seguendo un corso di El Makhrabi Institute che è anche per bambini che si chiama I segreti della Salet che però mi serviva per insegnare appunto a vivere la spiritualità della Salet ai bambini e durante una di cioè una di queste lezioni è stato riportato un bellissimo hadith Qudsi hadith Qudsi per chi non lo sa vuol dire che sono parole di Allah però che non fanno parte del Coran ok in cui Allah dice che in realtà Allah ama allora il profeta dice che in realtà Allah ha detto ok che chiunque mostra inemicizia a un nomeo Ueli quindi a un alleato di Allah che possiamo tradurre anche con amico di Allah io li dichiarerò guerra ok e il mio servo che cerca di avvicinarsi a me con sto traduciando dall'arabo quindi abbiate pazienza allora il mio servo che cerca di avvicinarsi a me con l'azione più più amata per me sono appunto i doveri religiosi che io li ho che io gli ho dato in questo caso quindi la Salet e se vuole ancora ulteriormente avvicinarsi a me che si avvicini appunto con il Neuefel quindi con le preghiere supererogatorie ok finché io lo amo e quando lo amo io divento le orecchie da cui da cui sente la vista da cui vede e la mano con cui colpisce e la gamba con cui con cui cammina quindi questo significa che qualsiasi cosa noi guardiamo quindi qualsiasi cosa noi vediamo cioè esatto ascoltiamo oppure dovunque andiamo dobbiamo pensare appunto cioè Allah sarebbe soddisfatto di noi se facessimo se facessimo questo guardassimo questo ascoltassimo questo ok continuo con il hadith e quando questo servo quindi l'ueli di Allah mi chiede qualcosa io sicuramente gliela darò e se chiede rifugio in me da qualcosa io sicuramente le garantirò questo rifugio e insomma questa cosa mi ha colpito tantissimo e e subhanallah mi ha avuto cioè il desiderio immenso di diventare e subhanallah e da lì a poco ho visto ho visto il video il terjem del che aveva che sicuramente ne ha sentito parlare Abdel Beghi perché l'aveva consigliato Emir durante il come si chiama l'incontro dal GMI in Brescia ok e praticamente sono due ore ma per gli arabofani veramente lo consiglio tantissimo perché neanche si sentono vabbè vi racconto qualcuno di questi aneddoti che mi hanno fatto legare ancora di più alla alla Salet praticamente questo Sheikh Abdel Aziz Ayun al-Sud metteva Allah al primo posto ma sempre sempre e comunque e in particolare appunto con la Salet e quando arrivava l'orario della Salet cioè doveva pregare subito ok e quindi uno di questi uno di questo oh mio Dio ok uno di questi aneddoti lui era in taxi con un suo Sheikh ok e mancavano venti minuti per arrivare a Homs che è la città in cui viveva ok però e allora il Sheikh Abdel Aziz dice al suo Sheikh guarda il Sheikh è la addenda addenda ok e il Sheikh lui dice siamo quasi arrivati c'è mancano venti minuti e abbiamo Homs e preghiamo al masjid e lui ok allora si sta un po' in silenzio dopo un po' gli dice il Sheikh addenda addenda allora gli dice Abdel Aziz manca ancora poco siamo arrivati cosa succede il taxi si ferma cioè comincia si rompe ok si è formata la macchina allora vabbè a questo punto lo Sheikh di Sheikh Abdel Aziz gli dice ma che berserre chi è Abdel Aziz e quindi scendono per pregare intanto il tassista va a controllare cioè che cosa avesse la macchina ma Sheikh Abdel Aziz gli dice ma non perdere Salat il Jamah viene a pregare con noi e poi controlla quindi pregano insieme e a un certo punto finiscono di pregare intanto il tassista vuole andare a vedere che cosa c'ha la macchina e lo Sheikh le dice guarda non ti preoccupare sali e vedi prova ad accenderla l'ha accesa e funzionava e un altro cioè un altro aneddoto erano andati c'era un convegno di in mi ricordo se erano andati comunque più grandi di ulame di insomma di quel periodo stiamo parlando di tantissimo tempo fa insomma comunque e vabbè a un certo punto dopo questo convegno dovevano andare a fare una umra ok e dopo da Mecca sarebbero andati a Medina ok cosa succede quando prendono l'aereo scendono dall'aereo per andare a Medina Yedden il Maghreb ok e con Cheikh Abdelaziz c'era anche Cheikh Ayman il Suede infatti è lui che raccontava questi aneddoti che cosa Cheikh Ayman il Suede si spaventa nel senso mio adesso Cheikh Abdelaziz vuole pregare assolutamente quando Yedden e lì c'erano tantissimi ulamei che erano appena scesi appunto per andare al Maghreb del Nebawi allora che cosa fa il Cheikh Abdelaziz Ayman il Suede prende la sua cosa chiamiamo il manchef cioè l'asciugamano che si usa per la umra per il haj e appena ce lo butta per terra e comincia a fare la comincia a fare le dhe ok e praticamente prima gli Cheikh Ayman il Suede dice il Cheikh manca poco dobbiamo arrivare al Maghreb e sicuramente la preghiera al Maghreb del Nebawi è molto più ricompensata e Cheikh Abdelaziz Ayman il Suede risponde la preghiera nel nel suo momento ok è più ricompensata della preghiera nel Maghreb del Nebawi ok e da lì tutti i shuyur che erano con loro li hanno visti cioè l'hanno visto e hanno messo anche loro i loro asciugamani per terra sono scesi anche gli autisti delle tipo delle limousine che erano venuti a prenderli e sono scesi tutti a pregare lì davanti alle ruote dell'aereo ok e subhanallah allora vi racconto cosa è successo praticamente la scorsa settimana e che anche quando ah no la scorsa settimana quando avevi fatto il workshop su chiedezza mentale che cosa quel giorno stesso cosa è successo bene io avevo questo desiderio cioè di essere un po' come lui ok e appunto di iniziare a pregare appena subito dovevo pregare vabbè allora una delle cose ok cosa dovevo da fare dovevo iniziare un un esperimento con una tesista a cui faccio tutorato e l'esperimento era ok l'inizio era 40 minuti prima del Zohar io lì ho detto allora per fare questo esperimento praticamente ci vogliono parecchie ore io ho detto vabbè sicuramente Zohar tarderò un po' a farlo in quel caso subhanallah dopo che ho finito di sistemare le varie cose preparare i campioni eccetera mancavano 5 minuti per l'event del Zohar io accendo il software e si impalla ok vabbè dico ok vado a pregare allora qui praticamente sto a Dublino nell'università in cui sto c'è una moschea c'è una piccola moschea subhanallah qui vabbè stanno proprio avanti rispetto all'Italia comunque nel senso proprio ci sono anche nella parte in cui fare l'abluzione in cui fare l'udu cioè le postazioni per l'udu tipo con le seggiole basse ok per dirvi vabbè comunque ok prego prego Zohar però prego anche laser ok perché dico perché l'esperimento di solito con il microscopio a forza atomica dura minimo 4 ore ok quindi non avrei avuto il tempo poi per pregare i laser appunto in tempo quindi li prego insieme torno torno che cosa succede non continua a non funzionare il software chiedo al professore e lui vede che è la prima volta che succedeva una cosa del genere cioè quel determinato problema perché di solito si impallava in un altro modo però questo esattamente non era mai successo quindi mi fa devo chiamare la compagnia ho detto vabbè ok è posto oggi non lavoro e ci siamo salutati dico ok colgo per andare a fare la spesa vabbè vado a fare la spesa tutto quanto poi torno a casa torno a casa mancavano 25 minuti a laser ok io dico vabbè dai laser l'ho pregato già allora colgo l'occasione e vado devo andare a un centro commerciale per comprare un regalo per una ok e niente praticamente faccio metà strada io ero sicurissima al 100% il mio monopattino elettrico era carico wallahi faccio metà strada si ferma c'era scarico non è possibile cioè io sono sicura al 100% che fosse carico vabbè praticamente torno a casa a piedi torno a casa appena cioè appena arrivo a casa gli avvene il laser ok cioè lo stesso giorno vabbè poi seguo il tuo workshop ok e lì dato che avevo cioè che ero intervenuta tutto quanto eccetera a un certo punto stavo quasi per finire il workshop e gli avvene il maghreb ok e io lì c'è proprio una sensazione di hem di preoccupazione cioè io non volevo abbandonare il workshop perché mi sembrava brutto cioè dopo che sono intervenuta eccetera nel senso così abbandono all'improvviso però era tipo quella sensazione che proprio hem capito cosa succede ti salta la connessione quindi è colpa tua ok adesso sapete come prendermela per far la preghiera in tempo ci fa saltare tutti in aria infatti da questo cioè da questo ho imparato e io sapevo che stavi andando a parare lì comunque l'avevo immaginato cioè subhanallah c'è in questo modo la cia aduca cioè non c'è bisogno appunto di far accadere queste cose ma cioè vai a pregare in tempo e metti Allah al primo posto e vedrai che tutto andrà bene e nulla questo è tutto Barakallahu Fiki Barakallahu Fiki anche il hadith del Weli è un hadith molto importante secondo me deve diventare anche un po' cioè di solito nel mondo del potenziamento personale si dice che se uno non si pone degli obiettivi ambiziosi in un determinato tema della sua vita rischia che quel settore della sua vita stia in stallo o comunque vada a deteriorare per esempio se io a livello lavorativo punto al massimo a sopravvivere a campare dal punto di vista lavorativo da lì a 10-15 anni sono a rischio dal punto di vista lavorativo perché comunque il mercato evolve e così via e se non sto al passo rischio di rimanere fuori dal mercato lo stesso vale dal punto di vista familiare se uno non punta a migliorare a degli obiettivi ambiziosi dal punto di vista familiare rischia di finire nella routine della sopravvivenza che poi molto spesso al giorno d'oggi si trasforma anche in divorzi o comunque in delle crisi familiari e così via e così via e dal punto di vista spirituale io penso che comunque una persona non deve vivere semplicemente alla giornata ma deve comunque vivere con in cuore il sogno o l'obiettivo di essere un walid ovvero un come diceva prima qualcuno che è suo alleato in tutti i momenti della sua vita che se ha un nemico Allah lo difende che se chiede qualcosa da Allah lo esaudisce e così via è un percorso spirituale da fare ma siamo stati creati per questo e in realtà non deve essere l'eccezione il fatto di essere quelli perché se Allah ci ha creato lui e ci ha creato per una missione e siamo qui al suo servizio e sotto la sua volontà che senso ha vivere con altri alleati se non lui che senso ha vivere senza guadagnarci il suo ole e quindi questa cosa qui penso che sia l'obiettivo che ognuno di noi deve porsi e non deve passare il concetto come passa in alcune scuole di pensiero islamiche per cui lui è lì è tipo uno in un paese e la gente prende e viaggia presso di lui per prendere la baracca e chiedergli il due e così via certo c'è anche il ole che magari è un po' più conosciuto perché oltre ad essere welly è anche molto attivo e impattante però guardate che il welly può anche essere il metalmeccanico dell'azienda a Biella o il pastore nel villaggio del Senegal o il c'è gente sconosciuta quindi perché molto spesso anche una certa narrazione ci ha creato in certi ambiti in certi diciamo correnti di pensiero ci hanno fatto pensare che il welly sia tipo uno su un milione che deve avere una serie di diciamo requisiti e che la gente gli dà un sacco di importanza e la gente viaggia per andare a visitarlo e così via poi c'è gente a cui addirittura sta antipatico il concetto di welly come perché dicono ah no ma poi se di uno e welly la gente va alla tomba e così via però a parte questi estremismi essere welly è una cosa che deve essere normale nella nostra testa perché vogliamo guadagnarci l'amore superiore e diciamo la protezione superiore della spana perché comunque Allah ama e protegge tutti i suoi servi ma poi c'è un livello un po' più khas un po' più da un po' più specifico per coloro che si impegnano un po' di più giustamente anche in qualche modo non dico meritocratico ma proporzionale allo sforzo che ci mettiamo nel volerci avvicinare a lui quindi che Allah subhanahu wa s'ala ci dia la volontà la disciplina e l'energia per adorarlo e adorarlo come vuole lui e adorarlo anche in maniera diciamo pregando anche le preghiere meritorie digiunando tanto facendo tante omra e ognuno ecco l'altra cosa ognuno si focalizzi anche sull'adorazione che gli viene meglio sull'adorazione rituale obbligatoria che gli viene meglio ok perché magari qualcuno qualcuno ama il digiuno qualcun altro invece ama di più la salat qualcun altro invece ama di più l'omra e così via quindi barakallahu fik iman per questo per averci ricordato questo importante hadith Margherita dici pure sì scusa se continui a intervenire ma ma no ma dovete no perché mi ero una sorta di preparata a questo workshop perché lo ottimo particolarmente quindi ho schematizzato più o meno la mia preparazione in prima di tutto che cos'è la salat per me per me è molto importante perché io sono una convertita e nel mio percorso che è stato molto lungo per arrivare poi alla shahada io essendo una persona molto razionale avevo prima bisogno di riflettere tutte le cose perché ha senso questo perché non ha senso diciamo la salat ha rappresentato la prima parte tra virgolette irrazionale per me perché io le prime volte che vedevo i musulmani pregare io non capivo perché ero così ipnotizzata nel guardare una persona che faceva questi movimenti che per me erano proprio fluidi non lo so non riuscivo a staccare lo sguardo dalla persona che stava pregando e quasi ero arrossita perché percepivo questo momento così intimo di quella persona e non capivo questo effetto su di me perché io sono abituata ero abituata a essere molto razionale molto diciamo materialista quindi questo è stato diciamo lo scatto in più quindi per me è molto importante e magari una cosa che aiuta diciamo a riprendere l'attaccamento a chi magari la considera un'abitudine in quei giorni pensavo alla prima preghiera a cui ho assistito e alla prima preghiera che ho fatto io la prima a cui ho assistito era al tempo facevo la ragazza alla pari in una famiglia egiziana musulmana e la prima preghiera a cui ho assistito diciamo in solitudine era questa signora circondata da tutti i suoi bambini e tra l'altro si arrampicavano su di lei una cosa pazzesca ma lei in perterrita serafica continuava la sua preghiera quindi proprio mashallah sonda del profeta e questa cosa mi colpì moltissimo perché in questa confusione lei era in piena trance con la sua preghiera quindi questo è un aneddoto che mi ha che mi emoziona sempre ricordare e l'altro aneddoto era stata la mia prima preghiera quindi qualche giorno dopo la mia shahada che ho fatto in solitudine perché così è andata ero in ufficio ad Amman e a un certo punto mi sentivo abbastanza sicura della mia memorizzazione della fatica e le sue diciamo più e più corte arriva la pausa pranzo e dohor salgo sul tetto di uno degli edifici più alti di Amman dove lavoravo e mi metto a fare la mia preghiera da sola sul tetto e ancora adesso diciamo a pensarci e niente questa è la parte diciamo romantica scusate quello che mi aiuta personalmente è ogni tanto siccome non sono arabofa cercare di memorizzare nuove sure quindi questa cosa di pensare alle parole che sto memorizzando al significato perché io non sono brava a memorizzare quindi devo fare un collegamento logico quindi appunto per evitare quello che diceva Sabri di automatizzare la preghiera quindi imparare nuove aria e invece per la fatica che è sempre quella per non rischiare di automatizzare quella cerco di visualizzare un'emozione per ogni pezzettino quindi per esempio visualizzare la grande generosità e misericordia quando dico Rahman Rahim quindi c'è speranza però quando poi arriva l'Eli Chiyomedin cerco di visualizzare il timore la paura perché caspita si è gentile generoso però un giorno ci giudicherà insomma i miei problemi invece con la salata da qui la mia richiesta d'aiuto sono quando sono di fretta tendo che mi perdoni a dire ok lo faccio e poi continuo con tutte le altre cose che devo fare nella giornata e purtroppo mi accorgo che certe volte la inserisco come se fosse uguale agli altri impegni della giornata e mentre prego certe volte mi capita se non sono concentrata di dire ok dopo però spendo i panni dopo però devo stirare dopo però devo mandare delle miei allora poi cerco di riprendermi però mi dispiace moltissimo avere questi momenti di debolezza durante l'ora perché questo è quello che volevo dire barakallahu fichi veramente per la condivisione riprendo innanzitutto la parte di guardare le persone che pregano anche a me ispira tantissimo a me piace proprio stare in moschea ma non dico non è che faccio altro mi piace guardare le persone ma sta roba qui ce l'ho da quando ero piccolo e probabilmente ha anche influito sul fatto che io prego da quando avevo otto anni senza alhamdulillah mai smettere e a me è sempre piaciuto soprattutto gli anziani oppure quelli che finiscono poi alzano le mani al cielo e vedi che ognuno ha le sue battaglie la sua vita e ti rendi conto che ognuno ha un rapporto con Dio e questa cosa a me mi ha sempre fatto sentire del non voglio essere da meno cioè non voglio che ci sia una persona che ha un rapporto con Dio e io sono da meno purtroppo sono un po' competitivo sono un po' competitivo per certi versi però non so se questa è vera e propria competizione è più ammirazione nel senso che io quella cosa di vedere delle persone connesse con Allah mi ispira a volerlo essere anche io e quindi mi fa venire più voglia di pregare quindi questa cosa di guardare le persone pregare cioè magari per te è stata una fiamma che ti ha alimentato poi il percorso di conversione però personalmente a me continua continua sempre a ispirarmi anche dopo 31 anni da quando sono nato alhamdulillah che sono musulmano dopo 31 anni guardare le persone che pregano anche nei periodi in cui avevo dubbi nell'adolescenza comunque frequentichiamo la moschea e così così e vedere la gente che dici mentre io faccio le mie cavolate o mentre io sono perso o mentre io sono nella mia vita quotidiana c'è questa persona che ha un rapporto con Allah c'è questa creatura che ha un rapporto con Allah che ha una conversazione con Allah e dico voglio anch'io e voglio avere una cioè è dato che voglio avere una conversazione speciale con Allah quindi quindi questo questo mindset mi ha da una parte permesso di non abbandonare mai la preghiera anche in periodi in cui non ero non ero veramente né convinto né né aderente agli insegnamenti islamici però comunque rimaneva questa no qualcosa di speciale tra me e Allah voglio che rimanga anche perché era irrazionale come dicevi tu cioè razionalmente anche se non avevo tutte le risposte comunque c'era quella componente irrazionale e per quanto riguarda il romanticismo in realtà mi ritrovo molto anche io in realtà paradossalmente noi razionali parliamo cioè ci alimenta la parte romantica ed è questo il bello della fede a me piace tantissimo e lo suggerisco a ognuno di voi ogni tanto prendere proprio il tappetino e andare in un posto di natura che sia una pianura vuota che sia in cima alla montagna che sia non so se Omar prima c'era non so se c'era anche lui comunque ho fatto con questi amici una gita sul bondone e arrivati tipo in un posto sperduto abbiamo messo giù i tappettini abbiamo pregato e ragazzi vi posso dire che è stata una delle preghiere più belle della nostra vita ma l'abbiamo detto proprio tutti tutti e tutti e tre o quattro eravamo è stata una delle preghiere più belle della nostra vita avevamo questo strapiombo davanti a noi con tutto la valle le alcune due tre valli trentine perché eravamo in una posizione abbastanza alta con questo venticello era primavera con i tappetini con i tappetini noi che pregavamo e questo questa brezza mamma mia ragazzi è stata una delle preghiere più belle della mia vita e perché vi dico questo perché in realtà è normale che ci sia una media di goduria nella preghiera però è importante anche crearsi più momenti possibili in cui proprio ci godiamo la preghiera cioè andare a prendere e dire vada vado mi faccio 5 10 km perché voglio pregare salat l'hasr o il dor su quella montagna lì voglio pregare salat l'hasr in quella pianura lì voglio cioè comincia io per esempio uno dei sogni della mia vita è pregare una preghiera alle cascate del mia gara ok è uno dei sogni della mia vita e anche pregare una preghiera nel 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 deserto sono sono tra i sogni della mia vita soprattutto quella alle cascate del mia gara io voglio mettermi alle cascate del mia gara tappetino qibla e farmi una delle preghiere più belle della mia vita e più romantiche della mia vita davanti alla manifestazione della della perfezione della grandezza della creazione di allah subhanu wa sallam e per cui io suggerisco anche quello la cosa di alimentare questa romanticheria tra noi e gli appuntamenti di preghiera e quindi farli anche dei posti belli a me piace anche scoprire nuove moschee moschee anche quelle soprattutto un po' più sperdute un po' più quelle vuote che entri se sei solo tu e ti prendi un angolino e poi anche pensi voglio che il giorno del giudizio questo posto come ci ha insegnato il profeta questo posto testimoni che ho pregato allah che ho adorato allah in questo luogo quindi ecco penso che avere un rapporto romantico con la preghiera e di base quindi con allah e quindi volerlo incontrare anche in dei momenti e delle situazioni speciali sia molto bello a me piace anche la preghiera sull'aereo cioè pensare visualizzare il fatto che sto pregando allah tipo 10.000 metri d'altezza nel volo mentre sto volando è qualcosa di super super bello quindi niente questo per quanto riguarda la parte la parte romantica per quanto riguarda invece la questione la tua domanda dei sensi di colpa io penso che ci viene in soccorso il hadith del profeta che dice che colui che vive la preghiera con profonda concentrazione e khushur è con al-barar diciamo viene scritto tra gli abitanti del Jannah ha tanti significati questa cosa qui con l'abar invece colui che prega ok e lotta nella preghiera tra concentrazione deconcentrazione poi ritorna poi di nuovo comincia a pensare ai fatti suoi poi di nuovo dice no devo riconcentrarmi e così via prende due l'huj l'hajar della concentrazione l'hajar della preghiera perché comunque sta adempiendo a un obbligo anche se uno la fa la fa un po' deconcentrato comunque sta adempiendo all'obbligo sta manifestando obbedienza perché anche la preghiera anche mettersi a fare allahu akbar e salire e scendere anche senza sapere tutti i significati chiaramente l'invito è sapere tutti i significati per poterla vivere meglio ma anche semplicemente alzarsi e fare quella adorazione lì ha già un lavoro di rafforzamento della fede perché stai dicendo Allah mi hai chiesto di fare questo e io faccio questo ok cioè quindi già adempiere da quando fai allahu akbar fino a salamu alaikum tu hai fatto il tuo obbligo hai fatto un'azione che anche se non fosse non avesse un significato cioè se Allah subhanahu wa ta'ala ci chiede di fare tre caprioli avanti e uno indietro e noi non abbiamo idea di che significati abbia il fatto che lo facciamo prendiamo ajr ok ok quindi noi già nel fare la nostra preghiera abbiamo l'ajr perché abbiamo adempiuto a un ordine di Allah subhanahu wa ta'ala in più il profeta ci insegna è che Allah subhanahu wa ta'ala ci 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 ricompensa per quella lotta interiore per mujahada ok quindi questa cosa qui è una è un hadith che dal profeta salamu alaikum con cui il profeta salamu alaikum ci mostra che è naturale ok ma anche il sahaba radiyallahu anhum il profeta Ali Omar abil khattab radiyallahu anhum un giorno che è uno dei mubashari in belgenna quindi uno a cui è stata promessa dal profeta salamu alaikum il paradiso è uno dei migliori amici del profeta uno che i cui pareri anticipavano poi le rivelazioni del profeta del corano quindi una persona un sahabi non come tanti altri sahaba ma un sahabi con una fede particolarmente forte con una visione della fede particolarmente diciamo corretta ecco Omar al-Khatab mentre parlava con i suoi compagni ha ammesso che pregando molto spesso pianificava cioè passava sulla sua testa l'organizzazione dell'esercito ok questo non è un invito a dire ma sì chi se ne frega l'ha fatto Omar al-Khatab quindi lo possiamo fare anche noi ma è per dire attenzione perché il problema è il troppo senso di colpa logora ok perché noi molti di noi vivono la religione con un perenne senso di colpa il perenne senso di colpa non porta a benessere porta a malessere mentale e psicologico e shaitan alimenta il nostro malessere il nostro senso di colpa paradossalmente molti sensi di colpa che abbiamo nella religione il shaitan quando vede che non può dirci di andare a disobbedire ad Allah sfa no zahala cosa fa ci logora con i sensi di colpa ok e poi tantissimi o cominciano ad avere un rapporto di distacco o di malessere emotivo con quell'adorazione lì ok o addirittura i più deboli abbandonano mentre in realtà noi dobbiamo vivere con un atteggiamento positivo nei confronti delle adorazioni che facciamo con Allah sfa no zahala e sfa no molti nostri religiosi ne parlano della religione in maniera davvero da rovinare le persone dice io ho saputo di gente che dopo la conversione gli è stato detto guarda che se ti deconcentri nella preghiera devi ripetere la preghiera e quindi persone che dovevano ripetere la preghiera diverse diverse volte perché gli era stata insegnata questa cosa negativa e hanno vissuto con questo west west ecco non è così non è così noi dobbiamo imparare ad avere un atteggiamento positivo con l'adorazione e dobbiamo imparare che finché noi ci sforziamo la ricompensa arriva ok finché noi ci sforziamo la ricompensa arriva e soprattutto dobbiamo pensare bene di Allah se vede che ci impegniamo basta e poi lui è comprensivo è misericordioso vuole è ammesso di voler farci entrare il Jannah c'è un Dio che ti dà 10 hasanets per ogni buona azione e una 6a per la cattiva azione e che quando pensi una buona azione pensi di farla ti dà la hasana anche se non la fai e quando pensi una cattiva azione e poi non la fai ti dà comunque una hasana e la sella te la dà solo se fai la cattiva azione cioè alla fine è come se ci dicesse voglio ricompensarmi voglio mettermi tutti in genna per cui dobbiamo avere un atteggiamento positivo e pensare bene di Allah subhanahu wa ta'ala che ci ha dato anche questa occasione del Ramadan ci ha dato l'Aumla ci ha dato il Hajj ci ha dato tante occasioni per davvero vivere al meglio il nostro la nostra fede e vivere al meglio il nostro rapporto con lui per cui il suggerimento Margherita è semplicemente sforzati e ecco un'altra cosa importante senza focalizzarsi sul risultato perché molto spesso la gente cosa fa Shaitan usa contro di noi noi assaggiamo in alcuni momenti della nostra vita certe belle sensazioni dentro la preghiera no? però poi in tante altre preghiere non le assaggiamo cioè non sentiamo niente è meccanico noi non dobbiamo focalizzarci sul raggiungimento di quello stato spirituale noi invece dobbiamo focalizzarci sul processo il processo qual è? mi concentro mi impegno attivo le visualizzazioni che ho imparato cerco di vivere i significati sempre nuovi per le parole che dico se mi mi concentro mi riconcentro chiedo ad Allah subhanahu wa ta'ala supplico ad Allah subhanahu wa ta'ala e così via poi a volte arriverà quella sensazione a volte non arriverà anche perché noi adoriamo Allah perché adoriamo Allah non perché vogliamo sentire quella sensazione ok? cioè se facesse anche male e avessimo solo strette al cuore durante la preghiera noi adoreremo Allah lo stesso per amore di Allah subhanahu wa ta'ala e per obbedienza ad Allah subhanahu wa ta'ala per cui noi non è che adoriamo Allah subhanahu wa ta'ala solo se abbiamo quella sensazione di benessere che ogni tanto Allah ci regala e se noi seguiamo il processo dell'impegno nel concentrarci ok? e nell'essere disciplinati nella preghiera perché io ho sentito alcuni ho smesso la preghiera perché non sentivo più niente e quindi non sentirai mai niente se non preghi ok? la disciplina cioè è normale che ci siano dei giorni in cui preghiamo meglio e dei giorni che preghiamo peggio ma anche se uno si disciplina nell'allenamento ragazzi è ovvio che ci sono giorni che c'hai voglia sei gasato ma ci sono giorni in cui vai lì e veramente ti cambi controvoglia fai gli allenamenti controvoglia ma fa parte della disciplina essere diciamo fare anche quelle sessioni di allenamento e ci sono delle volte in cui organizzo delle sessioni delle lezioni delle Q&A in cui sono davvero gasato non vedo l'ora di trasmettere una serie di lezioni eccetera eccetera ci sono volte che non c'ho sbatti però accendo lo zoom e mi metto dentro e faccio quello che devo fare ok per cui noi dobbiamo uscire da questa cosa che poi è anche questa mentalità schifosa di fare le cose che ci si sente di fare io veramente ho una sorta di crociata contro il mi sento non mi sento a mio agio con questa cosa qui cioè veramente ha prodotto soprattutto per noi uomini io sono cioè va prodotto degli uomini che sono delle scamorse che sono delle mozzarella che fanno solo le cose che si sentono che si sentono a loro agio di fare noi dobbiamo fare le cose che devono essere fatte noi abbiamo degli scopi che ci ispirano però dobbiamo ingoiare rospi e ciucciare bulloni nei percorsi ok per cui se vogliamo raggiungere degli alti livelli di spiritualità dobbiamo fare quello che deve essere fatto con disciplinatezza e non solo quando ce la sentiamo e quando ci sentiamo io veramente ho visto parlato con persone che si sentivano anche più meno ipocrite di tanti che pregano senza sentire niente loro si autogiustificavano e pensavano di essere migliori e più coerenti di quelle persone che invece a loro vista sono incoerenti perché pregano senza sentire niente no quelle persone obbediscono ad Allah e tu sei disobbediente quelle persone sono disciplinate seguono il processo e a un certo punto gli arriverà l'ispirazione e se proveranno il benessere della preghiera mentre tu no perché poi ci sono dei benefici della preghiera che derivano anche da quella sensazione di benessere ma ci sono dei benefici che non derivano che non sono collegate all'emozione come l'allenare la disciplina come l'obbedire ad Allah come anche dei benefici collaterali come quello delle posizioni che abbiamo nella preghiera come il fatto di magari anche durante la preghiera fai una tesbihah bene magari durante la preghiera fai un un una una eia la dici bene la gusti o almeno ti rendi conto di quell'idea perché noi comunque durante la preghiera facciamo un percorso mentale e diamo alla nostra mente l'ordine di percorrere certe connessioni neurali e quindi andiamo a rafforzare anche se non sentiamo in pancia quella sensazione di benessere comunque noi ripetendo certe cose e facendo un certo percorso mentale stiamo facendo percorrere la nostra mente dei percorsi neurali o neuronali neurali vabbè dei percorsi nel nostro cervello che vanno rinforzati e che quindi ci danno un atteggiamento mentale migliore vanno a prevenire certi certe debolezze mentali vanno a prevenire certe la mancanza di salute mentale vanno a coltivare la nostra salute psicologica e così via per cui noi le cose le facciamo e basta poi a volte ci sentiamo bene nel farle a volte non ci sentiamo bene nel farle scusate che mi sono agitato perché io ho proprio un'inimicizia profonda con questa retorica del mi sento a mio agio non mi sento a mio agio se facessi solo le cose che mi sento a mio agio sarei un ciccione sono un po' ciccione però sarei più ciccione sarei il doppio biciccione non l'avrei mai combinato niente la mia vita veramente niente di niente sarei divorziato perché se poi lo sentissi solo a mio agio abbiamo vissuto delle crisi io e mia moglie abbiamo vissuto delle litigate che a un certo punto avrei potuto dire o lei avrebbe potuto dire a me io non mi sento più a mio agio nella nostra conversazione invece abbiamo stretto i denti abbiamo detto andiamo avanti ci abbiamo lottato abbiamo cercato di risolvere i conflitti alcuni conflitti sono durati anche un mese un mese e mezzo che non ci capivamo ok però abbiamo lottato abbiamo lei ha studiato io ho studiato ci siamo capiti abbiamo riprovato a discutere abbiamo rilitigato e non è che abbiamo detto non mi sento più a mio agio in questa relazione no abbiamo affrontato e abbiamo lottato e siamo andati avanti e abbiamo quando abbiamo superato quei momenti di crisi poi siamo usciti ancora più forti dalla relazione e anche al lavoro al lavoro ci sono dei momenti in cui porca miseria uno dice ma chi me l'ha fatto fare ah non sento più l'ispirazione di lavorare con strong believer ci sono dei momenti in cui tra studenti collaboratori fatture commercialista tasse botte eccetera eccetera alla fine a un certo punto non mi sento più appassionato non si possono farsi ragionamenti così bisogna fare quello che è giusto fare e ricordarsi degli obiettivi perché devi usarli per ispirarsi perché poi anche l'autostima aumenta nel momento in cui sei un vero uomo adesso parlo da uomo però una vera donna e affronti con sacrificio le sfide della vita ok e allo stesso modo la preghiera la preghiera non si abbandona casca il mondo non sento niente ho dei dubbi ho delle in questo periodo non sento concentrazione mi sento un po' in co si fa a tutti i costi la preghiera si fa a tutti i costi non ci si pone il dubbio se la faccio o no è giusto farla? sì Allah mi ha detto di farla sì la faccio basta non c'è dubbio ragionamento da fare lo comincio a fare dopo Ramadan lo comincio a fare da lunedì si fa da adesso da questa preghiera e via così ok? scusate l'agitazione ma sono argomenti che mi toccano Nadir dice a volte il senso di colpa è opprimente vero le prime preghiere sono le più emozionanti nel mio cammino di fede devo ringraziare la mia sorella Maryam per aver pregato con me questa notte e avermi accompagnata nei piccoli passi da neonata che bello che bello leggere queste testimonianze Ida magari ti ho spaventato un po' con i miei modi bruschi Nadir dice il perfezionismo sì il perfezionismo poi è da shaitan Yasin dice giustamente bisogna attendere all'ihsan non retendere di viverlo ogni giorno Fatima dice fake it till you make it giusto giusto in realtà in questo caso è così ma l'obiettivo è seguire quella sensazione non ho capito infatti non è così Zecheri dice a me si sta trasformando in super saiyan no ma Zecheri è veramente io sono un po' più intollerante con gli uomini rispetto alle donne io non tollero che certi uomini e io sento certe cose dagli uomini mamma mia mamma mia cioè quella cosa del non mi sento a mio agio c'è una donna che dice non mi sento a mio agio già lo capisco la comprendo no ma un uomo che deve vivere per sacrificarsi per gli altri per essere responsabile per gli altri il rigelo cioè sono responsabile per gli altri e si mette a fare i ragionamenti da non mi sento a mio agio scusate ragazzi può sembrare un discorso maschilista è proprio una roba di pancia questa la mia non è un ragionamento come si può dire sociologicamente costruito a pancia mi dà molto più fastidio sentire un uomo che dice queste cose Yasin dice e io dice mi hai gasato bene bene Yasin dice cadono nella trappola di shaitan senza accorgere il perfezionismo Fatima dice poi allena la costanza con le cose comunque con quella vocina mi stendi ci vuole per l'altro per spaventarti per spaventarmi grazie per averci gasato dai sono contento che l'avete presa come che vi ho gasato almeno sì io purtroppo per quanto io possa leggere cose sono un maschilista intervistato e mia moglie non mi aiuta perché mia moglie è più maschilista di me adesso vi dico questa cosa qui Parmida è molto più maschilista di me questo dovete mettervelo in testa nel senso che lei è proprio discriminatoria no è proprio discrimina tra uomini e donne tra i loro ruoli e così via che poi voi la vedete imprenditrice poi adesso io la chiamo maschilista ma è un modo scherzoso per dire che lei comunque ha una visione molto importante per lei è molto importante sottolineare evidenziare che la donna evidenzi e sottolinei la sua femminilità a modo suo ognuno con la sua sensibilità e che l'uomo evidenzi e sottolinei la sua mascolinità per lei è molto importante questa cosa qui e che ognuno compia il suo il suo ruolo che non significa che la donna non la vuole perché se vedete io sono maschilista lei è maschilista però lei è un'imprenditrice e fa le zoom e io non è che le dico no non mostrar la tua faccia quindi adesso noi parliamo di maschilismo e femminismo ma è un modo di dire per contrapporlo alle psicofeministe ecco però parmida è molto molto netta su sta cosa del dividere uomini e donne non dividere cioè che gli uomini vivano da uomini ed esaltino le loro caratteristiche da uomini infatti lei non mi permette di non avere muscoli se io se io mi alleno è perché lei me lo impone e poi lei ci tiene tantissimo alla sua femminilità che poi nel suo caso la esprime ognuno la esprime a modo suo per cui ognuno ha il suo modo non c'è uno stereotipo di femminilità o uno stereotipo uno stereotipo di mascolinità e tra l'altro questo è coerente anche con gli insegnamenti della nostra religione il giorno del giudizio Allah subhanahu wa ta'ala ci sono delle delle categorie che neanche le giudica non vuole neanche vederle direttamente all'inferno e tra queste categorie c'è un uomo che che si comporta da donna e che si atteggia da donna e che fa le cose da donna e una donna che fa che fa l'uomo ok chiaramente è un argomento da sviscerare perché cosa si intende cosa non si intende eccetera eccetera ognuno deve seguire la sua natura ragazzi ognuno deve seguire cioè se una donna ha un tipo di femminilità diversa da un'altra non è che deve sentirsi diversa se un uomo ha un certo tipo di masconilità diverso da un'altra non deve sentirsi in difetto però è importante che l'uomo sia fiero e sicuro e maschile e la donna a suo modo anche lei ok chiusa parentesi bene ci sono altri contributi da che volete dare per questa cosa qui del della preghiera io avevo scritto un po' di punti che molti li abbiamo detti adesso faccio un po' una una in qualche modo una rassegna dei punti così vediamo quelli che mancano uno cercare il significato di ogni parola frase o espressione che usiamo nella preghiera due già vivere il significato prima della preghiera quindi già a partire dal wudu ok quindi vivere il wudu immaginando anche come il profetto salallahu alaihi wa sallam ci dice quando ci laviamo le mani sgoccioliamo i peccati che abbiamo fatto quando ci laviamo la faccia dai nostri occhi sgocciolano i peccati che abbiamo dalla vista i piedi allo stesso modo quindi c'è tutto anche un percorso spirituale mentale perché noi alla fine andiamo a lavare non le come si chiama il wudu non consiste nel lavare le parti che ci fanno perdere il wudu no e alla fine noi perdiamo il wudu non perché abbiamo fatto qualcosa col braccio fino a qua perché abbiamo messo il gomito addosso a qualcosa ma perché perdiamo il wudu perché siamo andati in bagno e così via però paradossalmente il wudu non consiste nel pulire cioè quello lì lo fai dopo aver fatto il tuo bisogno ma il wudu non consiste nel pulire le parti che ci fanno perdere il wudu il wudu consiste nel pulire le mani il viso quindi gli occhi il naso la bocca i piedi la testa quindi è tutta una simbologia di purificazione con l'acqua di tutti quei degli arti con cui compiamo le azioni ok o almeno simbolicamente poi quindi questo sicuramente se uno vive il wudu in questa maniera entrare dentro la preghiera è sicuramente dentro la preghiera entri in un atteggiamento diverso ok poi un'altra cosa che mi aiuta nella preghiera è il hadith che io lo chiamo hadith una volta un sahabi aveva pregato davanti al profeta sallallahu alaihi wa sallam e il profeta gli ha detto vai prega perché non hai pregato e due volte e tre volte due o tre volte l'ha rimandato a ripregare finché quel sahabi gli ha detto non so meglio di questo non so fare meglio di questo e allora a quel punto il profeta sallallahu alaihi wa sallam gli dice non gli è che gli ha detto dovresti stare concentrato in ogni istante no gli ha detto devi compiere ogni azione dando ad ogni azione il suo tempo quando stai in piedi ed è detto sul stare in piedi sul rocura sul sujud sul tahiyaz quando ogni azione che fai è detto falla finché non ti senti sicuro non ti senti quieto no a me viene da immaginare avete presente quelle boccette con dentro la neve il pupazzo che fai così c'è tutta la neve che svolazza e poi a un certo punto si acquieta sul fondo ecco io lo immagino in questa in questa maniera che cioè finché non ti acquieti non non ti rilassi non diventi non diventi più tranquillo ok in quella posizione non ti senti sicuro di quella posizione ok quindi anche vivere ogni posizione della preghiera con questo con questa sensazione di pace e di quietezza è sicuramente aiuta al khushur l'altra cosa che mi aiuta molto è fare il dua profondo quando sono nel sujud perché noi nel sujud possiamo davvero chiedere ad Allah subhanallah anche in italiano anche in dialetto marocchino tunisino egiziano polacco quello che volete ok quindi questa cosa qui nel sujud oltre al subhanallah rabbia ala dire anche pregare anche delle preghiere cioè chiedere le questioni inerenti alla propria vita e poi questo in realtà aiuta sia a concentrarsi e a vivere con più coinvolgimento un pezzo di preghiera e sia anche a rimanere focalizzate su i nostri problemi e anche scaricare lo stress no dire Allah mi affido a te affido questo problema a te ok quindi facendo due a profondo nel sujud si aumenta il livello di khushur perché poi alla fine il khushur nella preghiera significa il khushur nei vari pezzi della preghiera se noi sommiamo tanti piccoli pezzi in cui siamo riusciti ad essere concentrati magari nella feth l'abbiamo detto automaticamente però abbiamo scelto la sura con più consapevolezza e ci siamo stati più concentrati poi abbiamo detto Allahu Akbar e il ruku l'abbiamo fatto un po' con la testa tra le nuvole però l'abbiamo detto cavolo devo concentrarmi e così via poi su giud mi concentro perché quella è la parte in cui non devo dire cose automatiche ma devo dire cose diciamo devo avere iniziativa quindi ho la possibilità di concentrarmi di più e così via alla fine a pezzi hai lottato per avere la tua preghiera concentrata ok di nuovo anche riflettendo sulle caratteristiche di Allah durante il tasbih quindi durante il ruku quando fai subhanallah quindi si loda la maestosità di Allah subhanahu wa ta'ala quindi uno immagina la maestosità quindi la sua le sue caratteristiche legate al jalel no? e quindi la grandezza nella creazione la grandezza nella potenza l'onnisapienza l'onniscienza il come si chiama anche la vendica cioè il fatto che è vendicatore il fatto che potrebbe che è anche punitore e così via e tutte queste cose qui le fai mentre sei nel ruku e ti prostri ad Allah subhanahu wa ta'ala poi nel sugu giù subhanahu wa ta'ala e quindi anche lì tutte le caratteristiche che tutte le caratteristiche di Allah sono a'ala sono elevate quindi la misirecordia il gofran quindi immagina quando si fa tasbihi essere grati delle caratteristiche che è Allah subhanahu wa ta'ala e contemplare le caratteristiche di Allah subhanahu wa ta'ala affinché poi ci compenitano e ci nutrano poi anche ragionare su Allahu Akbar cioè in realtà uno potrebbe anche vivere solo Allahu Akbar quindi che significato ha nella nostra vita quindi Allahu Akbar dei problemi che ho di quel capo che mi sta facendo cioè che mi sta facendo preoccupare di Allahu Akbar del colloquio Allahu Akbar rispetto a tutti i problemi che abbiamo nella vita Allah è più grande qualsiasi cosa mi stia capitando Allah è più grande quella forza di Allah la affronto qualsiasi cosa mi stia distraendo Allah è più grande Allah è più importante per me ok quindi anche questo ci fa vivere poi godendosi il surat al fetiha alla fine il surat al fetiha la trovate davvero ovunque il surat al fetiha la ripetiamo in ogni rakah se uno impara cosa sta dicendo e impara anche a rifletterci sopra sicuramente la vive un po' meglio poi magari una delle prossime settimane facciamo una puntata focalizzata su surat al fetiha ok ricordandoci nel dua io adesso sto facendo una carrellata anche di suggerimenti ricordandoci nel dua il paradiso e l'inferno perché comunque noi preghiamo anche amando e sperando nella ricompensa di Allah e anche temendo la punizione di Allah per cui è un equilibrio che se uno se lo ricorda in ogni preghiera poi rimane presente nella sua vita e comunque la preghiera la vivi con un coinvolgimento emotivo maggiore perché il timore e il voler e il desiderio sono due motori potenti ok ecco perché Allah Spinoza ci ha mostrato il paradiso e l'inferno proprio perché noi ci muoviamo quel desiderio e il timore ok e riuscire a mettere questi due sentimenti all'interno della nostra preghiera significa vivere una preghiera più coinvolta ok e poi un'altra cosa che secondo me aiuta l'abbiamo un po' accennata prima è ricordarsi che stiamo pregando come il profeta salallahu alaihi wa sallam ha pregato Allah cioè noi stiamo connettendoci con il creatore come ha fatto la miglior creatura di Allah non in un altro modo ma il profeta ha fatto così e noi stiamo seguendo diciamo io ti adoro come il profeta salallahu alaihi wa sallam mi ha insegnato e come il Jibril alaihi wa sallam ha insegnato al profeta quindi stiamo pregando come Jibril ha insegnato al profeta quindi è una connessione anche con Jibril alaihi wa sallam ok quindi questa cosa qui e ricordandoci anche che siamo connessi nella nostra preghiera con sali quando noi facevamo facciamo il tahiyez a un certo punto diciamo assalamo alaihi kya ayyohannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh ovvero salute a te e pace su di te o profeta e che le benedizioni siano su di te o profeta Muhammad quindi salutiamo il profeta quindi ci connettiamo anche il profeta anche col profeta e poi assalamo alaina la pace e le benedizioni siano su di noi assalamo alaina wa ala ibadillahi assalihin che la pace sia su di noi e che la pace sia con tutti i servi devoti di Allah quindi in un certo modo ci connettiamo col profeta e ci connettiamo con tutti coloro che sono devoti e salihin e quindi è come virtualizzare una sorta di buona compagnia per noi per cinque momenti al giorno per quanto possa essere tossico nel nostro ambiente comunque in un determinato momento viviamo insieme all'ibadillahi assalihin e tra le file di ibadillahi assalihin e insieme al profeta salallahu alaihi wa sallam che ci guida ok e salutare il profeta salallahu alaihi wa sallam cioè assalamo alaihi kya ayyuhal nabi cioè stai salutando il profeta cioè il profeta è la persona più importante della nostra esistenza il nostro esempio più importante per cui assalamo alai che ci saluto e so che mi risponde e so che gli arriva il saluto anche questo è un momento emozionante da non vivere cioè che se ci sforziamo possiamo vivere con una certa coinvolgimento emotivo l'altra cosa quando è possibile è meglio scegliere un luogo tranquillo e privo di distrazioni per pregare ok quando possibile ok è ovvio che se devo abbandonare non pregare perché cerco il posto perfetto Zeb è meglio pregare in un posto anche un po' che c'è un po' di disturbo sforzandomi però se io scelgo bene il mio posto un posto anche ispirazionale anche all'interno della casa crearsi un posticino che diventa un po' un proprio angolino spirituale anche questo decorandoselo creandoselo abbellendoselo anche questo poi anche l'ambiente influenza no e in generale prepararsi mentalmente prima di iniziare la preghiera concentrandosi sulla sua importanza sulla connessione con Allah e qui ci vengono in supporto le raka'at anche meritorie prima della preghiera no cioè prima della preghiera obbligatoria fai due raka'at se si riesce sarebbe meglio sforzarsi di fare delle raka'at meritorie che ti fanno entrare un po' nel mood anche l'udu ti fa entrare nel mood l'eden no la chiamata della preghiera l'ekama della preghiera i vari do'a che il profeta salvatissim ci ha insegnato tutti ci fanno entrare diciamo dentro dentro il mood ok e quindi parti già con un certo livello parti già con un po' con la rincorsa ed è utile come dicevamo sforzarsi di pronunciare ogni parola della preghiera con attenzione e significato concentrandoci su ciò che stiamo dicendo e soprattutto che se ci distraiamo durante la preghiera non bisogna preoccuparsi troppo semplicemente torniamo concentrati e continuiamo la preghiera come se nulla fosse accaduto il profeta salvatissim ci ha insegnato che chi si deconcentra e si sforza comunque durante la preghiera per ritrovare la concentrazione ha il doppio della ricompensa la ricompensa della preghiera è quello dello sforzo per concentrarsi e no no e no ai sensi di colpa sforzati senza focalizzarti sul risultato dell'essere concentrato sforzati e basta non arriva solo se ti senti bene e piangi ma anche solo per lo sforzo ecco io ho citato un po' tutto quello che mi ero preparato molte cose le abbiamo toccate insieme Fatima dice bellissimo il discorso su Allah ci stavo pensando giusto ieri perché sto avendo qualche problema con la relatrice con le tesi e ho pensato al significato contentissimo di questa espressione mi è aiutata a calma che Allah ti aiuti e Jessica dice a questo proposito avrei una domanda io conosco solo una sura oltre al Fethiha la posso ripetere per le due prime due rakaez o la devo dire solo per la prima raka ma in realtà poi cioè ripetila per le due rakaez e nel frattempo un po' alla volta cerca di studiare una seconda una terza una quarta e così via ok non ci sono impedimenti che io sappia a ripetere la stessa la stessa sura per due rakaez addirittura se fai anche sura non è non è un problema per cui vedi vedi tu ok però di base cerca di impegnarti nello studio no io volevo condividere un pensiero che abbiamo fatto poco fa con Ida e niente si rifletteva sul fatto che quante volte prima di andare parlando non mi sentite? ma si ma tu chi sei? perché tu sei col profilo di Ida e dicevi sì perché non riuscivo a connettermi dal mio sono Marion Francesca ciao ah ok siete insieme state facendo un workshop insieme sì sì siamo insieme sto parlando adesso di presentati perché ok Marion no dicevamo che quante volte quando ci dobbiamo preparare per andare a un evento a un colloquio di lavoro a una cena non so siamo ospiti che facciamo ci laviamo ci facciamo la doccia e ci vestiamo ci facciamo belli e se entriamo nel mood che ogni preghiera è un appuntamento con Dio e oltre a lavarci quindi fare il rituale che dobbiamo se pensiamo al fatto che dobbiamo anche essere belli non è che io non porto il velo e la sento la differenza tra quando faccio la preghiera mettendomi la prima cosa che mi capita giusto per coprirmi la testa e sembro una scappata di casa e quando invece prendo qualcosa che mi sta bene e mi dà piacere vedermi in quel modo e mi sento ordinata mi sento come proprio se fossi in ordine bella e dico ok vado e quello mi mette il mood giusto proprio e quindi nulla volevo condividere questo e anche un'altra cosa quando quando finiamo a fare la preghiera che ci sediamo e iniziamo a parlare a colloquiare personalmente proprio con Dio e c'è la stessa cosa che mi viene da fare il paragone con ciò che facciamo con le persone quando noi scriviamo a qualcuno quando gli scriviamo una lettera ad esempio formale noi iniziamo con greggio signor aved la ringrazio bla 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 ed è un po' la stessa cosa che si deve c'è il navigatore di sottofondo scusate ed è un po' la stessa cosa che fa mantenere vivo quel quel fuoco non so quella bellezza del quando si inizia a parlare con Dio all'inizio si glorifica si dicono i nomi che ci piacciono i nomi che ci servono in quel momento che ci vengono in quel momento poi si chiede di dare la pace la benedizione al profeta Muhammad e solo dopo piano piano tutti questi accorgimenti che noi usiamo nella vita di tutti i giorni con le persone se impariamo ad usarli tutti i giorni per quanto c'è possibile ovviamente con diciamo con Dio che è l'appuntamento più importante insomma possono farci entrare nel mood giusto niente volevo condividere questo grazie a voi abbiamo altri commenti in teoria è possibile ok una volta avevo letto in un post di Ibra consigliava di usare le sure più adatte alle nostre situazioni in quel momento o quello che sentiamo di aver bisogno chiaramente questo richiede tempo per studiare il Corano però può essere utile Margherita dice grazie radito il rabbo l'islam edino muhammedin sallallahu alaihi sallam il nabi il rasulah grazie a Nathalie grazie mille sì salam alaikum per il pdf della salata che avevi mostrato all'inizio si può avere grazie sì l'aveva mandato Margherita nei commenti però sì poi scrivici a info strongbelieveracademy.com Zineb dice bellissima diretta e riflessioni molto utili grazie Baraka Laufico come al solito questa diretta è stata offerta dalla Strong Believer Academy per maggiori informazioni sulla Strong Believer Academy vi lascio un un link nella nella chat per tutti ok apritevelo salvatelo mandatelo spammatelo fate quello che volete però è per quelli che guardano la registrazione lo troverete in descrizione o al primo commento o in bio esplorate un po' quello che facciamo la nostra missione è quella di formare dei credenti che sono forti connessi con Allah come abbiamo qualcosa su cui abbiamo lavorato per esempio in questo workshop ma che oltre ad essere connessi con Allah sono anche poi in grado di lasciare un impatto e contribuire al miglioramento dell'umanità e in particolare contribuire alla rinascita della Ummah abbiamo diversi servizi diversi servizi con cui aiutiamo i credenti e i musulmani date un'occhiata e se c'è qualcosa che può esservi utile potete candidarvi trovate il link nella chat subhanakallahumma wabihamdik na shahadu al-la ilah il-la anz na staghfiru ka wana tupu il-laik subhanarabbika rabbil izzati amma yassifun wa salamun al-mulhassalin walhamdulillahi rabbil alamin e fateci do'ah fate do'ah fate do'ah per strong believer fate do'ah per me e per lo staff che Allah subhanahu wa s'ala accetti le adorazioni il digiuno e inshallah noi ci aggiorniamo a molto presto inshallah spero la prossima settimana comunque vi manderemo una mail salamu alaikum e invitate gli amici e mandate testimonianze e taggateci ecco una cosa che potete fare ragazzi se questi seminari questi workshop vi piacciono la cosa migliore è viverli con più persone possibili oggi eravamo 45 50 se arrivano a 100 200 300 1000 anche grazie a voi sicuramente contribuite a vostro modo anche alla a una maggiore consapevolezza anche nella vita delle persone che questo fa molto bene alla nostra um per cui se avete per esempio oggi c'è stato un bel seminario sulla preghiera la cosa che mi è piaciuta di più AXYZ lo scrivete sul gruppo poi lo scrivete anche nelle vostre storie sui social e taggate Strong Believer Academy e dite alla gente di iscriversi alla newsletter della Strong Believer Academy fate un grande servizio alle persone che si uniscono a noi e permettete che le nostre iniziative poi vadano ad impattare su più persone possibili per cui aiutateci che Dio vi aiuti Barakallahu Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Warahmatullahi Ta'ala Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti